Omicidio Anche gli inquirenti al momento escluderebbero motivi razziali. All'omicidio avvenuto verso mezzogiorno hanno assistito alcuni passanti. Appena presa la notizia, sul posto si sono radunati molti cittadini africani, sgomento e rabbia nelle loro parole con il pensiero che corso subito alla strage di Piazza Dalmazza del 2011 quando il fascista Gianluca Casseri uccise due giovani senegalesi. Non si può morire come una bestia a Firenze, sempre c'è un fascista che ammazza. Ora abbiamo anche i fascisti al governo. Forse è un pazzo. Ma si dice no, non è un pazzo. La seconda volta quando il fascista ha ammazzato, non mi fate arrabbiare di più definendole un pazzo. Lei ricorda Piazza Dalmazza? Lei dice Piazza Dalmazza, quello che sta dicendo ora. Io sto dicendo che questa persona che hanno ammazzato di cuore non Piazza Dalmazza, è frutto di quel clima che c'è e non è un caso hanno vinto ai fascisti. Questo dico e lo ribadisco. Questa volta non farò passare come l'altra volta. Allora nel momento in cui sarà senegalese che traggano le conseguenze, sarà una guerra totale in questo paese. Quello che faremo, non ho bisogno di dirvelo, lo saprete. Ma di tutte le persone, come mai il nero ha beccato? C'era solo il nero nel ponte? Guardate, non dobbiamo sempre sottovalutare quello che è accaduto cercando di trovare delle scuse. Qui un bianco ha preso una pistola, ha ammazzato un nero e mi dicono che non è un arziale. Che cos'è? Ditemelo voi! Toi! Grazie a tutti.